Sai che c'è Rick? Non mi preoccupo più di cacciare vecchie gazzelle ormai perché nel mio matrimonio il grilletto lo premo io Mi dispiace Maximo, è finita D'accordo, ma la metà di tutto quanto è mia In verità no Chi è? Sorpresa! È tuo fratello! Tutto c'è che devi fare è trovarti una nuova moglie Contatto visivo, contatto visivo Perché non dici la preghiera prima di iniziare a mangiare? Signore, prima che tu vada, aiutami a trovare una nuova moglie Quanti anni ha? In prima visione How to be a Latin Lover Questa sera a 21.20 Rai 3